su premium stories la terza stagione di manifest è un gruppo di persone a bordo di un aereo scompare dopo anni suoi occupanti ritorno a farsi vivi ma per loro il tempo sembra essersi fermato mentre per i loro cari la vita è andata avanti su netflix il debutto di zero la storia è quella di omar italiano di seconda generazione di origini africane che scopre di avere il dono dell'invisibilità il tutto è ambientato nell'interland milanese restiamo su netflix per tenebre e ossa la serie è ambientata in un mondo diviso in due da un enorme barriera dove creature innaturali si nutrono di carne umana ma una giovane soldatessa scoprirà un potere che potrebbe finalmente unire il suo paese sky atlantic invece proporrà anna serie firmata da nicola maniti la protagonista e anna appunto una ragazzina di 14 anni che vive con il fratellino e la sua famiglia in sicilia la loro vita sarà stravolta nel momento in cui un virus letale sterminerà la popolazione isolana e gli unici a sopravvivere saranno i bambini e i ragazzi fino alla pubertà discoraggio